Torna il camper vaccinale per permettere agli over 80 e ai soggetti fragili over 60 di effettuare la dose booster, la quarta del vaccino anti-covid. In provincia di Arezzo è il mezzo della misericordia ad arrivare nelle piazze assieme al personale ASL per incentivare la vaccinazione che sta andando molto a rilento. La vaccinazione è importante perché seppur siamo in una fase di calo della curva comunque i pazienti che sono più a rischio possono comunque avere delle ripercussioni importanti. Quindi fare un booster, aiutare le loro difese immunitarie in questo periodo può comunque evitare dei problemi e delle complicanze più gravi, soprattutto in chi ha dei problemi. Quindi pazienti anziani, pazienti che hanno patologie multisistemiche a livello cardiovascolare o comunque respiratorio. Quindi in questi tipi di pazienti è comunque molto molto consigliata, oltre a non avere comunque controindicazioni importanti. È giusto proteggersi? Sì, sì. No, perché a me mi ha mai fatto male il vaccino. Sono fatti diversi, ma vabbè. Perché a me ho 90 anni. Perché fare questa quarta dose? Per precauzioni, diciamo, basta. Perché non ho fatto altre tre, mi sono andate tutte bene, non ho avuto niente. E spero che continui così. Io francamente credo nel vaccino e continuo a farlo, insomma, finché posso. Siamo a Sansepolcro, in Valtiberina, e c'è chi ancora deve effettuare la terza dose e così sceglie di effettuarla presso il camper vaccinale. Il vaccino, ricordiamo che ovviamente non protegge dal poter contrarre la malattia, ma protegge dalle sue forme più gravi. Esatto, esatto. Chiaramente un conto è infezione, un conto è la malattia. Sicuramente l'infezione, diciamo, può essere comunque contratta, però chiaramente la malattia nelle sue forme gravi, soprattutto la morte, l'ospedalizzazione, viene ridotta da un punto di vista di tassi. E questo ce lo dimostrano tutti gli studi, tutte le statistiche che sono state fatte. Grazie. Grazie. Grazie.